Il benessere dei capelli e il benessere del corpo sono importantissimi, come lo è scegliere il miglior partner in questo settore che porti esperienza e qualità. Industria Pagoda risponde a queste esigenze con una proposta esclusiva di polveri decoloranti e di ossigeno in crema. Nel panorama italiano l'azienda vanta di essere tra i pochi ad avere una produzione propria e completa di un'ampia rosa di referenze di settore per le diverse esigenze. L'azienda prende vita nel 1980 quando il dottor Lorenzo Condemi, chimico poco più che trentenne con esperienza maturata in diversi laboratori di analisi, rileva una piccola azienda e inizia a formulare e produrre acqua ossigenata, sali da bagno, shampoo e altri prodotti per capelli. Grazie all'esperienza consolidata negli anni e all'attenta osservazione degli sviluppi nel mercato, oggi sono stati inseriti nell'offerta di Industria Pagoda tutti i prodotti che interessano la cura dei capelli e del corpo. Il personale attento e qualificato è tempestivo nel gestire ogni richiesta, con l'obiettivo di soddisfare sia le grosse aziende che i piccoli distributori, curando ogni aspetto della produzione meticolosamente, dalla formulazione e la ricerca delle migliori materie prime, sino alla scelta del packaging più appropriato e alla consegna in tutto il mondo, con relativa documentazione secondo le normative del Paese di destinazione. I prodotti e dei servizi di Industria Pagoda sono rivolti ad aziende produttrici e a distributori che si confrontano ogni giorno con il mondo della cosmesi professionale. In Italia e all'estero, per la cura dei capelli e del corpo, e imprese che hanno un'idea cosmetica da realizzare o a quelle realtà già esistenti che desiderano ampliare la gamma delle proprie risorse. La polvere decolorante è sicuramente tra i prodotti più richiesti e di punta, in quanto consente di ottenere ottime decolorazioni rispettando la natura del capello e andando a soddisfare tutte le richieste di schiaritura e colorazione. L'ultima proposta assolutamente innovativa e rivoluzionaria che Industria Pagoda propone sul mercato è la stiratura a base di acido gliossilico, ricco di elementi preziosi, che rende i capelli perfettamente lisci senza rovinarli. Industria Pagoda è un partner serio e all'avanguardia per tutte le realtà che operano in questo settore e mette a completa disposizione del cliente tutta la conoscenza maturata e la consulenza per realizzare formulazioni innovative e personalizzate. Se si chiede a Vittoria Condemi, amministratore unico di Industria Pagoda, dove sta il segreto del loro successo? Sicuramente risponderà nella velocità, nell'esperienza, nella qualità e nel sorriso.